Vi aspettiamo al buffet? Sì. Vengo. Vengo. Ho i slettlinghi. Mamma, prendi i suci precoci da cos'è passata. Si, 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 si. Eh, vai. Perché si è liberato un posto. Hanno fatto il coscino che la musichetta, che è? Ops, scola. Ho visto, per caso, il mio piccolo Pukaciov? Sono male. Stava qua. Stava qua. Stava qua, l'hai vista, signora mia. Ha camminato a stare in giro, guarda. Pukaciov! Pukaciov! Non c'è qua. Pukaciov! 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 Sta a posto? Tutto a posto, bello dezione. Anzi, no. Guarda, c'è questo coscino che è scomodissimo. Dammi la sistemata che c'è le mani impicciate. E poi spera che... Ma che io prego il posto a zì? Zitto, zitto, zitto. Pure zitto devo stare. Zitto. È scomparso il piccolo bisogno della signora Timonoff. Vai subito a cercarlo. Vado. Ho detto subito! Vado subito. Ma guarda si impugnito se si arza. Ma pure fregate il posto. Dove vuoi arzare? Oh! Vieni qui. Che vuoi? È rustico. Vieni qui. Che c'è? Mettami la mano sotto e attiro fuori. Cazzuzzo. A zio che dici una cosa del genere. Ma che stai a dire? Ma che hai capito? Ma sotto c'è Pukaciov, l'hai appena schiacciato. Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Che paura bestia. Che disgrazie. Adesso lo prendi. Tu lo metti sott'aggia che lo fai sparire. Un permesso. Però dopo il piatto mori.